Siamo qui al Vipmaster Tennis con Idris, tifosissimo della Juventus, quindi non può mancare oggi qui al Vipmaster un giudizio su questa Juve che sul mercato si sta muovendo con molta lentezza, diciamo sicuramente. Diciamo alla chitichella, discretamente, ma veramente discretamente, alla Moji, alla Moji, Moji, Moji. Cioè diciamo sotto sotto comunque si muove qualcosa, diciamo. E Cristiano Donato lo vede ancora la Juventus? Sì, mi dispiacerebbe se andassi via, perché Cristiano fa la differenza. Abbiamo anche Chiesa, Di Bala, c'è una vasta gamma di allegri. Lui è Cristiano Ronaldo, ti assicuro 30 gol all'anno. Chi potrebbe essere un bomber al posto suo se andasse via, diciamo. Chi ti piacerebbe? Icardi magari? Icardi no, diciamo. Sì, perché no. Anche Icardi, anche Icardi. Se Allegri lo vede, lo faccia giocare. Ma ce li abbiamo a casa, i bomber. Morata, Di Bala, sono due bombe. Bonucci e Chiellini sono due ciattezze, penso. Beh sì, sono le coach. E Cesni ti dà fiducia in porta? C'è una sicurezza. Il Milan è per lo scudetto? Non me ne frega niente del Milan. Però la Juve è scudetto. Penna bianca. Ultima battuta, Juventus, quindi candidata allo scudetto quest'anno con lei. Fratello! E Conte ha preso qualcosa all'Inter senza Conte e senza Hakimi? Mi spiace, Conte è un amico mio. L'Inter senza Conte, senza Hakimi, cioè perde un po'. Ultima, Giuseppe Morigno, lo vedi per lo scudetto alla Roma? Ma lascia perdere. Ah ah, grazie a tutti. Ah ah, grazie a tutti.